Buongiorno da Regnano e dei delfini, faccio vedere il caso di una paziente molto piccolo, breve, ma molto intenso. Questa paziente aveva questo sorriso molto piccolo, molto stretto, quando sorrideva, innanzitutto sorrideva poco perché non le faccia piacere, ma si vedevano molto i latineri qua all'esterno. Qua durante, perché vedete ha gli attacchini sul canino, qua appena finito, e qua a distanza di un anno e mezzo, quasi due, da un controllo. Vedete come il sorriso è bello, pieno, appena finito, ma anche a distanza? Perché? Perché la paziente aveva un'arcata stretta a V, sia sopra, con relativo affollamento inferiore dell'arcata. Come abbiamo fatto? Allineato perfettamente l'arcata sotto, ma soprattutto allargato ed espanso bene, correttalmente a livello alveolare, l'arcata sopra, quindi lei adesso ha un sorriso pienissimo, che è questo qua, qui sotto. Molto bello. Vi faccio vedere anche la progettazione del clean check e un piano di trattamento in visaline light. Ok, arcata inferiore affollamento, arcata superiore affollamento, risoluzione dopo 14 mascherine nell'arcata superiore, in realtà anche meno 10, inferiormente anche dopo 14 era così. Poi abbiamo necessitato di una piccola rifinitura a 5, in cui abbiamo leggermente intruso l'arcata superiore e ancora sistemato qualche piccolo malposizionamento. Gol!